Albaidef gene! Gabbè, li fa'99 Alcuni dico che Alcuna è soltanto la donazione dell'Islam L'adorazione dei Messaggeri, dei Pro forty Zappاتi da Llu Q doen L'adorazione degli Angeli da Llu QBoth e dice che la valorazione delle persone via non rappresenta Shabbat. Dice questo nonostante il dorato sia un mio libro che dicono che la dorata che siano strato non rappresenta l'altro che c'è e non c'è distinzione per la dorata una strata o una dorata un altro o un altro.